Grazia dell'Edda, Una vita per il Nobel, è il volume presentato in città a Palazzo Fibioni a cura dell'autrice sarda Maria Elvira Ciosa. Una serata che ha visto un'ampia partecipazione ad introdurre la presentazione del libro è stata Erzilia Lancia, vicepresidente del Consiglio Comunale. Paolo Retta invece ha fatto delle letture tratte dal libro. Il libro Grazia dell'Edda nasce da questa esigenza di eliminare tutte le banalità che si dicevano su questa scrittrice, banalità e falsità. Io sono nata in una casa dell'Ottocento vicino alla casa di Grazia dell'Edda e da bambino ho respirato quell'aria. Quindi pur occupandomi d'arte perché sono una storica dell'arte, a un certo punto ho sentito l'esigenza di scrivere la storia di questa grande donna. Perché è stata una grande donna non soltanto sotto il profilo letterario come romanziera ma proprio come donna, donna curiosa di tutto quello che accadeva intorno a lei. Possiamo scoprire tante cose, possiamo scoprire per esempio l'originalità del personaggio. Una donna che ha soltanto la quarta elementare ma che crede fortemente nella forza della sua scrittura e questa forza la accompagnerà sino alla fine. Addirittura in una lettera che indirizza a Marino Moretti dirà io voglio scrivere sino alla fine anche se sto male. Perché quella era il cosiddetto fiume sotterraneo che la teneva non soltanto in vita negli ultimi anni ma che le ha fatto poi assumere quel ruolo che ha avuto nella cultura e nel panorama culturale italiano.